Porto Recanati è un posto bellissimo, l'acqua è veramente bella, se ci si affaccia oggi sembra di essere in Sardegna. Bandiera blu sicuramente meritata. A Porto Recanati sì, sono tre anni che veniamo sempre e l'acqua è molto bella, l'acqua del mare merita, merita molto sì. Si inizia ad andare al mare e che mare a Porto Recanati dove dopo nove anni torna la bandiera blu. La prima ricevuta nel 2003 e l'ultima nel 2013, ora il vessillo torna a rendere orgogliosi i cittadini di Porto Recanati e i turisti che non vedevano l'ora di tornare spiaggia. In particolare a Scossicci nel tratto centro-nord ad essere stata premiata e anche chi lavora nella zona ne riconosce le qualità e aspettando la stagione più calda l'augurio è che possa essere un'estate piena. A livello turistico sicuramente sarà un'esplosione come è stata negli anni passati, quindi oggi ritornando con questa bandiera a 4,20 sicuramente è un ottimo risultato per tutti. Naturalmente c'è Numana, c'è Sirolo dall'altra parte, c'è Porto Potenza e Civitanova, mancava solo Porto Recanati che oggi ce l'ha, quindi nell'indotto sarà una cosa fantastica. Un'estate alle porte che sembra non deludere il settore, ma dopo la bandiera blu il progetto delle istituzioni è quello di ridistribuire il turismo nel corso di tutti i mesi dell'anno. Lo possiamo interpretare almeno in due modi. Uno, sicuramente una spinta che può portare maggiori presenze a Porto Recanati. È importante questo per noi, ma non essenziale. È più essenziale che questo aspetto della bandiera blu ci faccia migliorare in qualità, nell'offerta che noi diamo e anche poter avere la possibilità di allungare i tempi della nostra stagione turistica. Una gran conquista per Porto Recanati che torna dopo nove anni ad esibire la sua bandiera blu.